Sesta tipologia, i miei cari, i miei cari di nuovo, i miei cari di nuovo, la fine, Chiariola arrivo lì e posso per 30 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15 per i bracci, 15 per i bracci, 15 per i bracci, 16, 15, 14, 15, 15. come volete tornate di niente si chiude la staspetta terza prova e questi qua che fanno anche lì per essere quasi più bravi perché si stavano presi dentro di un'altra scusami, la seconda prova cariola all'andare e a tornare terza prova passo del mio parvo il fogo sono tornato ieri sera il compagno ok così mi serve la maglietta ascoltatemi si è andata che il ritorno quando arrivo lì il ritorno se l'ha detto il ritorno a questo ascolto ascoltatemi passo del mio parvo arrivo in fondo il compagno si piega un po' in avanti tiene il paolo così 30 ginocchiate 1,2,3,4,30 che stiano a 30? mi sono di smuove fare lo spizio torno indietro finisce ogni fine prova noi vediamo ci siamo siamo le due estremità bianca di là giampo di là e guardiamo chi taglia prima il traguardo 10 punti 8 punti ricordatevi la prima squadra chi vince paga da bere a chi perde cioè chi perde paga da bere a chi vince ok? chi perde scusate non è facile non è facile allora certo certo non fatemi domande vi ho già detto andata e ritorno andata e ritorno andata e ritorno ok no no le fardo le fardo ora ora abbiamo messo la prova diciamo per farsi due risate perché dopo riterete meno allora abbiamo messo la prova ogni squadra a ogni squadra io darò ogni squadra ha un colpo da scegliete chi deve non scegliete sceglie io quale squadra dovrà fare un colpo avete 5 minuti per provarla e già quella vi da punteggio esempio la capite la squadra che sarebbe deve fare il calcio deve fare la dimostrazione di calcio essenziale vabbè vanno di testa Giuseppe e la fa Florini che dubbi è una scelta Florini alza il braccio ma a voi non me ne manca ok quindi voi avete il calcio senzio questo molto rapidamente la squadra B Nicosia dovrà fare un calcio saltato scorbiciato a scelta il bello è che non vi riesce è bello il bello no ridillo ridillo il bello che non vi riesce quindi la squadra è voi Luca mavuntà dovrà fare il butterfly kick la faccia aspetta no Gianco la squadra di voi parigiani dovrà fare un calcio d'ascia girato saltato signo vieni qua vieni qua allora la squadra di Aquino dovrà fare un calcio girato saltato allora il calcio essenziale è questo voglio fare bene 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 levate di lui sa leva calcio d'ascia girato saltato vai portati in fallo come ti vedi saltato girato ok vai ok butterfly kick vado a vedere butterfly kick oh ok si ciao calcio saltato scorbiciato calcio scorbiciato ok 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 avete ogni squadra qual'è calcio girato saltato io farei io farei io farei io farei saltato allora tre minuti provate questo colpo poi cominciano le prove chiamalo 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 fai il calcio senza e questa è la prima prova squadra B squadra B squadra B calcio saltato scorbiciato dategli un bersaglio il compagno salita avanti è un bersaglio più difficile da pure la guardia brava 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 calcio girato calcio girato saltato brava ben brava 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 Allora, a me è piaciuto il primo, quello che ha fatto meglio. Devo dire che Luca ha fatto il colpo meglio e secondo Lorini con il calcio senciario. Quindi il peggio di tutti, che però vince la prova, è già con uno da quinto. 10 punti alla squadra. Allora, in questa prova qui la sorpresa era il peggio vinceva. Allora, a me è piaciuto il peggio vinceva. Allora, a me è piaciuto il peggio vinceva. Allora, a me è piaciuto il peggio vinceva. Squadra B. Squadra B. C, C. No, squadra C, C. C, C. No, no, B, B. Basta e legge, gestite. LORINI 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 E... No, LORINI 4 punti. Sì, giusto. Che LORINI è stato il secondo più bravo. E' otto a parigiani. 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 Chi anche lo sapeva? Adesso andava a vedere che il peggio vinceva? No, lo sapeva che vinceva e lo sapeva solo noi. No, lo sapeva solo noi. Ok. Prima prova. Ragazzi, portateci. Ma io che è meglio portato. Ma prima non c'è. Prima c'è la prova. Io carico il mio compagno. Io carico il mio compagno. E' che io calcio. E' ovvio che non calcio la voi. Ora non mi servono. Ma sì, dai, teneteli, dai. Pronti? Pronti? Oh, loro sono già spiegati. No, sotto il caffese, dai, per far sì. Sì, certo, certo. Via! Ahaha. Vimbarare! Grazie. 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 Dovete fare l'ultimo giro voi? Seconda squadra è Terza squadra A Quando? Quarta squadra A, terza squadra D Quinta squadra D Quinta squadra D Questa è scosso No, questo ci viene vergogna C'è un po' di problema Cosa hai detto, cosa hai detto, attenzione Innardi è ammafiato Si è creato la squadra più forte Ah si Guarda, è arrivato a primo No, guardalo Ha dato un giro a tutti Ah si eh C'è polemica Come tutti gli anni Sì, non è un giro a tutti Sì, non è un giro a tutti Sì, non è un giro a tutti Bellissimo, bellissimo Spingi un po', spingi un po' Spingi un po', spingi un po' Spingi un po', spingi un po', spingi un po' 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 Vai, 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 vai! Squada di Seganda, gattiamo più la destra mano, bravo sì. Squadra E, terza, terza squadra B, quarta squadra E, quinta squadra A. C'è polemica, squadra troppo forte qui. Io sono un non atleta, non c'è abbastanza il livello della squadra. È stato fatto un cambio. Dovresti, 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 la squadra S come scorretti. Siamo i peoni del mondo. Lui conta i due meno, la conta i due meno. Pure, sei scorretti, sei scorretti. Sì, noi, correttissimi, corretti di noi, sei. Oddio. Passare, commento di pernuccio. Allora, polemia di pernuccio. Questuali parole, se loro vincono e io perdono, mi pagano anche a me la bevuta. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Pronti? Mano dietro la linea. Mano dietro la linea. Ma io faccio te, Salo. E' di vantaggio. Quanto vuole. E' meglio. Ti sei in vantaggio. C'è in vantaggio. C'è in vantaggio. C'è in vantaggio. C'è in vantaggio. Pronti? Pronti? Oh, sposti. Via! I avanti. Quanto vuole. C'è in vantaggio. C'è in vantaggio. In vantaggio. T'è in vantaggio. Un vantaggio. Dijellio. Maravigio. C'è in vantaggio. Ponte vuole. Allora, c'è e in vantaggio. Sì, 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 sì. come nel luogo la vince Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.